Aeroporto d'Abruzzo e Saga, interlocutore all'incontro con la Regione, segnatamente con lo sottosegretario D'Annuntis, delegato ai trasporti, e con l'assessore Damario, a cui è affidata la responsabilità del turismo. L'incontro, svoltosi lo scorso 13 settembre, commentano Cigel, Cisl e Will, Abruzzo e Molise e delle rispettive federazioni di categoria, ha contribuito a riaffermare le criticità che attengono lo scalo aeroportuale abruzzese e la sua società di gestione. Positiva la condivisione di un confronto partecipato. Aurelio D'Eugenio, Filt Cigel, Amelio Angelucci, Filt Cisl e Vincenzo Marco Tuglio, Will Trasporti. Ci sono le premesse per arrivare a una soluzione del problema? Speriamo di sì. È chiaro che ci sono delle difficoltà rispetto al ridimensionamento dei voli e inoltre le preoccupazioni nel piano industriale dell'esternalizzazione di alcune attività a terra dell'aeroporto stesso. L'assessore vi ha dato già qualche risposta in attesa di? L'assessore ci ha dato qualche risposta rispetto al nuovo direttore generale che verrà nominato prossimamente ad ottobre. Ci ha lasciato spazio per nuovi incontri per dibattere sulle altre nostre criticità che abbiamo avanzato e che era quella dell'esternalizzazione e quello del ridimensionamento dell'aeroporto stesso. Noi avremo un incontro con il Presidente Catone settimana prossima nel quale entreremo nel merito del piano industriale per quanto riguarda il fattore lavoro. Apprezziamo l'approccio avuto dall'assessorato rispetto alla condivisione della necessità di dialogare per risolvere dei problemi. Al centro tre macro questioni, piano nazionale aeroporti, riduzione dei voli e no all'esternalizzazione delle attività aeroportuali. Aspettiamo questa famosa riunione che ci sarà breve con la Saga, con i vertici di Saga il 22 dove con il Presidente Catone affronteremo alcune tematiche tipo il piano industriale, la questione dei voli che sono stati soppressi ad esempio quello per Milano delle 10 e un quarto e quello di Torino che si accinge dal 5 novembre sempre che non sia più prenotabile sul sito della Saga. Aspettate i fatti? Aspettiamo i fatti in merito a queste questioni ma una questione molto più ben precisa è quella dell'esternalizzazione che c'è stata nel 29 dicembre dove il CDA ha dato un mandato esplorativo per esternalizzare il personale dell'handling. Parliamo di otto figure lavorative. non 早i poi non non so